Ora basta, questi fumetti per femmine hanno davvero stancato. No vabbè, io ci ho provato a fare l'intro clickbait, ma non ce la faccio. È poco credibile, dato che sono sempre stato uno dei massimi promotori del manga a target femminile in Italia. E quindi, proprio per questo, oggi vi voglio proporre 10 titoli tra Shoujo e Josei, ancora inediti nel nostro paese, e che sono abbastanza sicuro sarebbero davvero meritevoli di essere letti. Però, per non farmi prendere troppo dalla nostalgia, non ho messo solamente titoli vecchi, che io adoro, in particolare appunto quelli degli anni 70, 80 e 90. Ho voluto fare una cosa un pochino più equa, mettendo quindi 5 titoli, diciamo, moderni, e 5 titoli un pochino più vecchiotti, proprio per non scontentare nessuno al 100%. Naturalmente io questi titoli, essendo inediti, non li ho letti, e quindi vi posso solamente raccontare un pochino della trama, quello che vedo su Anime Click, e mostrarvi alcune tavole relative alle varie opere. Detto questo, partiamo subito. La prima opera che vi consiglio oggi si chiama Wagahai One Echo the Harugainu. È un volume unico, Josei, uscito nel 2022, scritto e disegnato da Sajima Katana. Un'opera di genere drammatico, Slice of Life, che sembrerebbe effettivamente poterci far molto piangere. La trama, infatti, è questa. Un cane muore di stenti dopo essere stato abbandonato dai suoi padroni durante un trasloco. Tuttavia, si reincarnano molto tempo dopo in un gatto randagio. In un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano... No, quella è un'altra cosa. In un giorno di pioggia, il gattino precipita e quasi annega in un canale di scolo, ma viene salvato da una studentessa delle superiori di nome Michi. Lei è una ragazza che preferisce i cani ai gatti, ma il giovane Micetto è pronto ad essere qualunque cosa pur di stare accanto alla sua nuova padrona. La trama mi ha toccato veramente nel profondo. E poi, oltre a questo, ho trovato che le tavole siano veramente meravigliose. Ci sono un paio di questi disegni in particolare, di queste illustrazioni, appunto, anche a tutta pagina che mi hanno fatto davvero pensare che questa è una delle opere che vorrei assolutamente di più al momento in Italia, tra questi target. Un'opera sicuramente più vecchiotta è invece quella che vi dico adesso, ovvero Dark Green di Sasaki Junko, nata ben due anni prima di me, quindi immaginate quanto possa essere vecchia, e sono dieci volumi. La trama è questa, 20 dicembre 1980X, per dire un periodo indefinito alla fine del ventesimo secolo, improvvisamente persone in tutto il mondo fanno lo stesso identico sogno. Da quel momento molte persone non riescono a svegliarsi. Ci sono testimonianze di sogni realistici collettivi infestati da mostri chiamati Zell. Hocto, uno studente d'arte in difficoltà, una notte fa uno di questi strani sogni. Grazie a nuovi amici da poco incontrati, combatte contro gli Zell, cercando di capire la reale natura di questo pericoloso fenomeno. Poi c'è l'opera di un'autrice che mi ha fatto innamorare di un'altra sua opera. Questa fortunatamente pubblicata in Italia, ovvero Sakamichi no Apollon, Gemmi in Apollon. Ed è Kodama Yuki con Hagoromo Mishin, un'opera a Giosei in un solo volume, che ci parla di uno studente di ingegneria con la passione per i ponti, Yuichi, che salva un cigno rimasto imprigionato in un'impalcatura. Quella sera stessa riceve la visita di una bellissima ragazza, Miwa, che dice di essere il cigno che ha salvato. La ragazza è ansiosa di ricompensarlo per averla soccorsa e Yuichi, che ha un carattere molto gentile, anche se non riesce a crederle, pensa che sia in difficoltà e accetta di ospitarla per la notte. Le cose però prenderanno una piega inaspettata. Come per un'altra autrice di cui vi parlerò dopo, di Kodama Yuki, ci sono tantissime altre opere che vorrei vedere, ma questa è una di quelle che mi sembrano più carine. Parlando di autrici, di cui vorrei vedere veramente tantissime opere pubblicate in Italia, ce n'è una completamente inedita nel nostro paese, questo è un gran peccato. Parliamo di Yamagishi Ryoko, e tra le tante sue opere davvero meritevoli ne ho scelta una, chiamata Shiroi Heyano Futari, anche qui un volume unico, per quello che è noto per essere, insieme a Onisama E di Ikeda Ryoko, uno tra i primi titoli Yuri mai apparsi nella storia del manga. La giovane Resin, dopo la morte accidentale dei suoi genitori, decide di entrare in un collegio francese per sole donne. Nonostante il parere contrario dei parenti, le è assegnata come compagna di stanza la turbolenta Simone, che da prima Resin non sopporta, a causa dei suoi modi scorbutici. Mi ha ricordato davvero tanto da vicino il poema del vento e degli alberi di Takemiya Keiko, quindi sono sicuro che mi piacerebbe molto anche quest'opera. Poi abbiamo Ten Makuno Jadokal, un'opera del 2021 di Tomato Soup, ancora in corso con tre volumi. Quest'opera ha vinto il Kono Manga Gatsugoi nella categoria femminile del 2023, e io non capisco anche qui come mai non sia ancora arrivata in Italia, dato che sembra davvero interessantissima. Ci troviamo nel XIII secolo. Fatima, una giovane persiana resa prigioniera dall'impero mongolo, decide di servire nel palazzo imperiale per mettere a disposizione le sue conoscenze mediche e scientifiche, molto avanzate per i tempi. Il suo incontro con una delle mogli del secondo imperatore Ogodei, figlio di Gengis Khan, che aveva sentimenti contrastanti riguardo all'impero mongolo, cambierà il suo destino. Davvero super affascinante anche per quanto riguarda i disegni, molto 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 diversi da quella che è la classica estetica shoujo a cui siamo abituati. Uno degli shoujo più innovativi che io aspetto di vedere da una vita, anche in Italia, è Fire di Mizuno Hideki, opera in quattro volumi, molto drammatica, che ci racconta del giovane Aaron, che viene incarcerato ingiustamente in un riformatorio, dove conosce e stringe amicizia con il carismatico Fire Wolf, un ribelle nato e cantante di talento. Dopo la morte di Wolf in un incidente in moto, Aaron decide di seguire le sue orme e di diventare un musicista rock, iniziando così un'edissea frenetica attraverso l'America di fine anni 60. Dedicandosi completamente alla musica, e tormentato dalle incessanti visioni di Wolf, Aaron esplora le droghe, il misticismo e l'amore. Quindi capite che innovazione pazzesca nel 1969 per quest'opera. Nello stesso anno, tra l'altro, vinse il premio Shogakkan, ed è stato il primo shoujo manga della storia a contenere una scena di sesso. Sembra parecchio interessante anche Teto Teto Te, di Iketani Ryoko, uno shoujo in due volumi in corso dell'anno scorso, nel quale tre sconosciuti stanno per essere investiti e uccisi da un camion. I tre sentono provenire da un misterioso altoparlante, una frase che indica che per prolungare la loro aspettativa di vita, per altri 60 anni, occorre rispettare una strana condizione. Ciascuno di loro dovrà stringere la mano agli altri due ogni giorno. Davvero particolare questa trama, secondo me, e anche i disegni non sono affatto male. Poi abbiamo ancora una volta l'opera di un'autrice che mi piacerebbe venisse più indagata, diciamo a fondo nel mercato italiano, dato che alcune sue opere, una sicuramente, che è una ragazza alla moda Mademoiselle Anne, sono arrivate in Italia, ma ce ne sono anche tante inedite. E sto parlando ovviamente di Yamato Waki, di cui vi propongo in questo caso l'opera Nishimuku Samurai, un'opera in cinque volumi, pubblicati tra il 1997 e il 2001. Durante il periodo Edo, non tutti i samurai erano considerati ricchi eroi di guerra, di alto lignaggio, che rispondevano direttamente allo shogun. In effetti, molti di loro erano di basso rango e rimanevano senza nome per tutta la loro carriera, vivendo di ristrettezze con le loro piccole famiglie per sbarcare il lunario. Hanshiro e Yuki e Nakamura, insieme al loro figlioletto Taro, sono una di queste famiglie. Waki Yamato offre uno scorcio sulle vite delle persone umili che apre gli occhi su certi aspetti della vita della capitale del Giappone durante questa epoca famosa. Quindi davvero super interessante vedere un'altra visione sui samurai rispetto a quella che ci viene proposta più spesso, ovvero di questi eroi indomiti senza macchie che non avevano paura veramente di nessuno. In questo caso li vediamo alle prese proprio con la vita vera e una vita di povertà soprattutto. Poi l'opera di un'autrice che mi è piaciuta davvero tantissimo con le poche cose pubblicate in Italia, ovvero i Gashimura Akiko, della quale appunto adoro la principessa delle meduse, Kura Geime, e mi è piaciuto molto anche il suo disegna. In questo caso io vi propongo Tokyo Tarareba Musume, opera in nove volumi che ci parla delle storie d'amore di tre donne, Kaori, Rinko e Koyuki. Il loro incontro avviene durante le Olimpiadi a Tokyo. La trentenne Rinko lavora come sceneggiatrice, ma non ha successo, né un fidanzato. Ha però due amiche, chiamate Kaori e Koyuki, che incontra regolarmente in un bar. Qui le ragazze coetanee cercano uno sfogo sulle rispettive situazioni lavorative e sentimentali, e si inventano scenari e sé, ovvero dei piccoli what if, che potrebbero essere molto molto divertenti da leggere. Lei è un'autrice, secondo me, fantastica, disegna benissimo, ha una grandissima originalità nelle sue idee che porta in scena. Leggete Kura Geime, se non l'avete ancora fatto, anche se meriterebbe una bella riedizione o ristampa, ma se vi capita, fatelo, perché è un Josei che vi divertirà davvero tantissimo, pieno di gag, una dopo l'altra, davvero stupendo. E come ultima opera, un grande classico di un'autrice che effettivamente ha avuto qualche opera pubblicata in Italia, ancora tante devono essere pubblicate, e tra queste c'è sicuramente Faraono Haka, mi sto riferendo a Takemiya Keiko. Questa è un'opera in otto volumi del 1974 e ci porta direttamente nell'antico Egitto, in un anno imprecisato, dove il giovane erede al trono Sariokis, spodestato dal crudele Sunefir, è costretto a separarsi dalla sorella Nairukia, dopo una triste serie di vicissitudini. Insomma, il talento di Takemiya Keiko è assolutamente indiscutibile, quindi su questo non c'è neanche molto da dire, spero davvero che arrivi come hanno fatto altre sue bellissime opere. Fammi sapere tu quale opera Shoujo o Josei vorresti in Italia, o quali, insomma, 5, 10, 1, quelle che vuoi qui sotto con un commento. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, iscriviti attivando le notifiche, e condividilo con qualcuno a cui pensi possa interessare. apri box informazioni che è pieno di info utili, ad esempio su come venire in Giappone con me ad aprile. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!